Hai anche tu la partita IVA? E sei pure un forfettario? È vero che la fatturazione elettronica ormai è obbligatoria per tutti, ma hai visto quanto è comoda! Fare le fatture è un attimo! Per chi hai tutte le informazioni salvate in anagrafica, le marche da bollo le metti in automatico. Durante la compilazione non puoi sbagliare. Verifica gli incassi e i pagamenti. Importa tutte le vecchie fatture da altri operatori. Controlli report e grafici per sapere come va. Il tuo commercialista può anche accedere, ma solo se lo vuoi. Lo usi dal computer, ma pure dallo smartphone. Provala, solo un euro per tre mesi. Fatturazione elettronica di Aruba. Che la scelta non la lascia più. Vai su aruba.it